Sono Michele, sono napoletano, sono un ingegnere. Per la mia professione è necessario conoscere fluentemente l'inglese. MyClass mi dà la possibilità di poter seguire delle lezioni nel momento in cui ho tempo, con un'applicazione su tablet prenoto in tempo zero e frequento quelle due ore che a me servono. È un sistema comodo, flessibile ed è molto adatto a chi ha una vita caotica come la mia. Grazie.